Allora, nuovamente buon pomeriggio anche a coloro che si sono collegati adesso, io sono Manuela Fabri, avevo già anticipato il fatto che praticamente abbiamo cambiato l'ordine nella quale verranno esposti gli argomenti, quindi prima inizierò io con il discorso del stato avanzamento delle fatture elettroniche, successivamente ci sarà Stefano Benzi e poi Martina Bisognani per quanto riguarda tutta la logistica. Allora, le fatture elettroniche a differenza di quelle cartacee per la quale una volta inviate bastava magari chiamare il cliente e accertarsi che la fattura fosse effettivamente arrivata a destinazione, per le fatture elettroniche diciamo queste seguono tutto un iter deciso dall'agenzia, un iter che è costituito da una serie di stati evolutivi che portano poi la fattura ad essere considerata emessa e effettivamente consegnata al destinatario. Prima della versione 2022G, lo stato avanzamento doveva essere controllato consultando i diversi cruscotti, quindi cruscotto fatture PA e cruscotto fatture B2B. Da questa versione invece abbiamo introdotto queste informazioni, quindi lo stato avanzamento di invio delle fatture relativamente al loro processo di fatturazione all'interno dei documenti di prima nota e di magazzino. Per semplicità e per evitare di inserire numerose icone e colori abbiamo suddiviso le fatture in tre diciamo categorie. Tutte le fatture che hanno il bollino verde sono fatture che si trovano in uno stato conclusivo, quindi fatture per le quali l'utente non deve fare nessun tipo di operazione, indipendentemente dalla ricevuta associata, quindi sia che si tratta ad esempio nel caso delle B2B di fatture consegnate o in mancata consegna. Il bollino giallo invece identifica le fatture che sono in uno stato intermedio, quindi si è diciamo così in stand by in attesa di ricevere le ricevute da parte del sistema di interscambio in modo tale da diciamo evolvere lo stato di avanzamento della fattura fino a portarlo a quella conclusiva. Una particolare attenzione bisogna porla a quelle fatture che hanno una di queste tre icone. In particolare se c'è il triangolo di attenzione significa che sono quelle fatture che sono state generate da programma, quindi è presente l'XML, ma non sono ancora state inviate al sistema di interscambio. Per questo motivo non sono considerate emesse. Le fatture invece che hanno il bollino rosso sono quelle scartate, quindi fatture emesse inviate al sistema di interscambio, ma quest'ultimo le ha scartate per un problema diciamo strutturale. Anche in questo caso le fatture non sono da considerarsi emesse, per cui bisogna revisionarle e rigenerare il file XML con le correzioni opportune. L'ultima icona è il lavoro in corso. Questa icona identifica due tipologie di documenti. Nel caso delle fatture PA corrisponde a quelle fatture che sono state rifiutate dall'ente destinataio, quindi la fattura è stata consegnata, l'ente l'ha visionata, però contabilmente magari non è d'accordo quello che è riportato all'interno della fattura per cui la rifiuta. In questo caso l'utente deve provvedere a revisionare il documento in base a quanto comunicato dall'ente destinatario, rigenerare il file XML e inviarlo al sistema di interscambio. Quest'icona però è presente anche in quelle fatture che sono state generate con un servizio differente da quello che è attualmente attivo all'interno dell'azienda. Ipotizziamo che io ho gestito le mie fatture con il servizio in autonomia, quindi provvedevo di inviare le fatture al sistema di interscambio tramite la PEC. Poi decido di acquistare il servizio all inclusive. Bene, tutte quelle fatture che risultavano in uno stato da inviare generate con il servizio in autonomia, nel momento in cui si attiva il servizio all inclusive, assumono questa icona che sta a identificare il fatto che la fattura deve essere ristampata, quindi deve essere rigenerato il file XML secondo quanto previsto dal servizio all inclusive. Caratteristiche diciamo di PASCO e MXAL è il fatto che tutti i documenti che vengono emessi da magazzino e da parcellazione tendenzialmente creano la registrazione in prima nota, in maniera contestuale, per cui abbiamo deciso di inserire questa nuova colonna stato proprio nella lista di revisione prima nota. La colonna verrà valorizzata per quei documenti elettronici, quindi solo quegli elettronici, che sono le fatture e le note di credito emesse, sia in regime ordinario diciamo che in IVA per casso e IVA esegibilità di ferita, per le fatture e le note di credito ricevute e le fatture ricevute con doppio protocollo nel caso in cui è associata un'integrativa. ve lo mostro nel programma, ecco questa è la colonna, come vedete è contraddistinta solamente dall'icona, quindi rappresentata da un bollino colorato eventualmente dai lavori in corso eccetera, però se si va sopra con il mouse viene mostrato il tooltipo, quindi la descrizione della relativa icona. Dal momento che ci possono essere fatture che hanno sì la stessa icona, quindi il bollino verde, ma hanno associato una ricevuta differente, ad esempio in questo caso abbiamo un consegnato, c'è un mancata consegna, oppure potrebbe essere un dei corsi termini nel caso della pubblica amministrazione, quindi magari può avere senso, uno può avere l'interesse magari di individuare quelle fatture, non so che si trovano in mancata consegna, perché, a percezione dei privati, magari voglio contattare l'azienda e dire che la fattura è presente direttamente sul cassetto fiscale, per cui diventano fondamentali le ricerche e i filtri. Come posso, diciamo, selezionare i documenti in base allo stato, o utilizzo la ricerca full text, quindi ad esempio inserisco una parte della descrizione dello stato, quindi ad esempio mancata consegna, e il programma in automatico va a filtrare le fatture in base a quello stato, vedete è mancata consegna, sia il bollino verde che il bollino giallo, questo perché bollino verde sono fatture B2B, quindi stato conclusivo della fattura. Nel caso invece delle fatture PA si tratta di uno stato intermedio, quindi hanno un significato completamente differente. In alternativa ho la possibilità tramite la funzione di configure elenco, quindi l'ingranato è questo qua su in alto, di andare ad allargare la grandezza della colonna, ad esempio la porto a 20 e a questo punto proprio colpo d'occhio vedo che la colonna stato sarà composta non solo dall'icona ma anche dalla relativa descrizione. In alternativa posso sempre usare anche i filtri veloci, quindi clicco sull'imbuto, clicco su stato e a quel punto ho l'elenco di tutti gli stati che caratterizzano le fatture presenti nella lista di revisione prima nota. Ad esempio se scelgo mancata consegna, bollino verde, mi andrà a selezionare solo ed esclusivamente quelle, quindi rispetto alla ricerca che ho fatto full text non mi ha preso in considerazione quelle della pubblica amministrazione, quindi il bollino giallo. Lo stato tendenzialmente viene aggiornato in tempo reale, quindi ad esempio, non so, in questo caso ho una fattura che risulta da trasmettere. Apro una seconda sessione, ad esempio vado dal cruscotto, cruscotto delle fatture B2B, vado nello stato da inviare e seleziono la fattura che voglio effettivamente trasmettere. Invio. A questo punto, siccome in realtà ho aperto una seconda sessione, qui devo ricaricare la maschera perché non ho fatto nessuna modifica proprio a livello di funzione di revisione prima nota. Quindi rientro e lo stato della mia fattura da inviare il risultato trasmesso. Stesso discorso nel caso in cui io, non so, vado all'interno di una registrazione che è in stato trasmesso, vado a verificare se sono presenti delle ricevute, lo posso fare dal cruscotto, dalla funzione di gestione ricevute oppure appunto come sto facendo ora direttamente da dentro il documento. Quindi vado in modifica, acquisisci ricevute, quindi in questo caso interroga Passav per vedere la presenza o meno di una ricevuta, la seleziono e la importo. Nel momento in cui confermo il mio documento, automaticamente lo stato verrà aggiornato. Quindi da trasmesso è passato allo stato finale mancata consegna. La stessa informazione ce l'ho anche all'interno delle schede contabili. Quindi ad esempio ricerchiamo il conto merci, conto vendite. Cliccando sul pulsante ulteriori dati questa maschera è stata arricchita appunto dell'informazione stato fattura. Scorrendo all'interno della videata chiaramente vengono variate le informazioni. quindi ho visualizzato lo stato della fattura su cui io sono posizionata. Abbiamo inserito lo stato anche all'interno di emissione e revisione documenti. La logica è la stessa, vedete quindi la colonna stato, le icone sono le medesime, posso utilizzare filtri e ricerche. I documenti interessati sono le fatture di vendita, le fatture di acquisto, e relative note di credito. Sia in, diciamo, IVA normale che in IVA esigilità differita o IVA per cassa. Ci sono alcune particolarità che vi ho riportato all'interno di questa slide. Allora, per quanto riguarda le fatture ricevute, indipendentemente che hanno o meno associate le ricevute dei metadati, verranno tutte contrassegnate dal bollino verde con lo stato ricevuto. Mentre per quanto riguarda i documenti di tipo self-building, oppure quelle tipologie particolari come TDI 20, TDI 21, 22 o 23, che sono quelle fatture che, diciamo, uno emette per conto del proprio fornitore. Ecco, in questo caso che cosa succede? Allora, nel momento in cui viene emessa la fattura, fattura fornitore da magazzino, chiaramente questo seguirà lo stato come se fosse una fattura di vendita, quindi avrà da inviare, trasmesso, consegnato o mancata consegna. Nel momento in cui questa fattura tornerà indietro, perché appunto io ho simulato che l'avesse generato il mio fornitore, quindi torna indietro a me come azienda e quindi la devo importare lato ciclo passivo, a quel punto, nel momento in cui vado a effettuare l'import, il programma che cosa fa? Andrà a creare un nuovo documento di DocuVision, quindi avrò quello legato al ciclo, diciamo così, attivo, quindi quando l'ho emessa, e quella che invece sono andata a importare perché ho ricevuto, tra virgolette, dal mio fornitore. Questi due documenti però verranno allegati allo stesso documento di magazzino e alla stessa registrazione contabile, chiaramente registrazione che magari ho inserito contestualmente alla creazione della mia fattura fornitore da magazzino. In questo caso, nel momento in cui vado a effettuare l'import, lo stato della fattura da consegnato che era, quindi quando avevo gestito la parte, tra virgolette, del ciclo attivo, assume lo stato ricevuto, quindi ciclo passivo. Nelle slide vi ho riportato molto brevemente in formato tabellare quali sono gli stati della fattura PA, della fattura B2B, e vi ho riportato anche quelle legate alle aziende di San Marino. Allora, per quanto riguarda le aziende di San Marino, gli stati sono gli stessi delle fatture B2B, fatta eccezione di due stati, diciamo, o meglio, uno stato nuovo che è in prossimità sia dello stato consegnato che mancata consegna, ed è il bollino verde con il punto esclamativo. Questo identifica solo quei documenti che sono, sì, in uno stato conclusivo, ma a cui non è ancora stato associato il codice della distinta.